Buongiorno a tutti, nel video di oggi proseguiamo nella analisi, nella descrizione, nel commento di quello che è successo al di là della linea gotica, come avrebbe detto Totò, a parte i scherzi, stiamo facendo un'analisi molto approfondita di quello che è accaduto nel Regno del Sud, la documentazione, i documenti diplomatici italiani per quanto riguarda i rapporti tra il governo Badoglio e quindi le varie filiere militari e diplomatiche con gli alleati, con le referenze stranieri, ma abbiamo deciso di, in qualche modo anche su vostra sollecitazione, di andare a capire come si comporta l'altra metà della mela, quello che accade a Salò, quello che accade all'interno di un discorso molto composito in cui vi è un Stato semisovrano, quello della Repubblica Sociale Italiana, che però è oggetto non solo di un'occupazione militare da parte dell'alleato germanico, ma anche di una soggezione sostanziale negli aspetti sia di politica internazionale che soprattutto anche di quelli interni, all'interno di un discorso molto complesso di invidie, di contrapposizioni, di antagonismi interni nelle filiere governo, partito e tutto ciò ovviamente che comporta anche le forze armate, eserciti, forze armate regolari, bande, eserciti partito, quindi tutta forze di polizia, in qualche modo ufficiali e ufficiosi che si vanno a inserire all'interno di un discorso che molto spesso scende a ribasso nella moralità, nell'utilizzo di situazioni veramente nefaste, cruente e anche criminali. E in questo discorso mi è sembrato interessante riprendere questo volume. L'avamposto di Mussolini è il Terzo Reich, la politica italiana a Berlino 3345, di Gianluca Falanga. Questo è un testo uscito nel 2008 in lingua tedesca, tradotto nel 2011 per l'edizione italiana di Tropea. Questo volume ci è stato molto utile nell'analisi di quello che è accaduto nel periodo precedente, quello precedente al 25 luglio, quando avevamo una realtà particolarmente difficile con Alfieri, ambasciatore a Berlino, Alfieri un personaggio che è abbastanza scialbo, abbastanza senza una linea propria, in balia degli eventi. Abbiamo paradossalmente letto qualche giorno fa un commento di Hitler che ne tesseva le lodi, perché nel 34 era stato amico della Germania, quindi per Hitler il fatto che Alfieri avesse tenuto a briglia corta, paradossalmente parlando, e avesse consigliato Mussolini di non intervenire nel colpo di Stato, una specie di colpo di Stato fallito in Austria da parte del partito nazista, ebbene, quella situazione comportò un certo debito di gratitudine di Hitler nei confronti di Alfieri, ma in realtà sappiamo come Alfieri è stato sempre consigliato una pezza da piedi dagli italiani, da Ciano in primis, ma poi anche dai tedeschi che lo trattavano veramente male e ovviamente il libro di Falanga non ne fa purtroppo una bella rappresentazione. Ma con l'8 settembre va alla ribalta Filippo Anfuso, che sarà l'ultimo ambasciatore italiano a Berlino nel periodo del nazismo, tra l'altro qui il capitolo viene intitolato La vendetta 1445 Filippo Anfuso. Filippo Anfuso che era stato braccio destro di Ciano, che aveva percorso una carriera diplomatica particolarmente brillante, era un personaggio eclettico, un personaggio sicuramente di grande valore, anche se appunto poi si prestava ad occasionali operazioni che diciamo che, vabbè, ma la diplomazia è quello che è, quindi in qualche modo non è che ci stupiamo che Anfuso possa aver fatto determinate cose. Ma diamo la parola a Falanga nella narrazione di quello che accade nell'ambasciata italiana a Berlino. La notizia che giunge a tarda sera nell'Ungheria dell'ammiraglio Miko Orti è sensazionale. Il capo missione Filippo Anfuso è seduto nel suo ufficio nella delegazione italiana a Budapest quando all'improvviso ascolta alla radio tedesca le note di giovinezza. È il 12 settembre 1943 e la situazione è estremamente grave. Il diplomatico italiano disapprova il modo in cui il suo governo ha concluso l'armistizio con il nemico. Rimprovera al maresciallo Badoglio e alla corona di avere consegnato il paese alle forze di occupazione di potenze straniere. L'inno di trionfo del movimento fascista ha su di lui l'effetto di un farmaco rigenerante. Un commando di paracodisti tedeschi ha liberato Benito Mussolini, il duce, dalla sua prigionia nell'albergo Campo Imperatore sul Gran Sasso. In quel preciso istante Anfuso rientra in sé il conflitto al quale l'hanno costretto il crollo del regime e la fuga, secondo lui disonorevole, del governo da Roma sono finalmente terminati. L'ex capo di gabinetto del Conte Ciano prende subito una decisione piuttosto insolita fra gli alti ranghi della diplomazia italiana, che nell'insieme continua a rimanere fedele alla monarchia. E lo abbiamo visto con i documenti diplomatici che si ricollegano sempre a Badoglio. Senza preoccuparsi minimamente del giudizio dei suoi collaboratori più stretti, che non si mostrano entusiasti del ritorno di Mussolini, Anfuso si precipita nella delegazione tedesca della Ernest Gasse e dopo un colloquio nel capo missione locale il nazionalsocialista entusiasta Dietrich von Iagov prende la penna e scrive un telegramma Benito Mussolini Berlino duce con voi sino alla morte. 24 ore dopo Filippo Anfuso riceve in ufficio una telefonata da Berlino e Alexander Freier von Donberg, capo del cerimoniale del ministro degli affari esteri e adesso anche membro dello Stato Maggiore di Himmler, quindi una persona raccomandabile possiamo dire. L'italiano è sorpreso, da quattro giorni il governo del Reich ha interrotto ogni contatto con le autorità italiane. Dornberg gli dice che un suo amico giornalista desidera salutarlo. Anfuso rimane all'apparecchio telefonico pieno di curiosità fino a che una voce profonda non gli comunica in italiano. Anfuso ho avuto il vostro telegramma, non mi aspettavo altro da voi. È la voce di Mussolini. Il duce nel disciolto del disciolto regime fascista desidera vederlo al più presto possibile. Il diplomatico si dichiara senza esitazioni pronta ad andarla a trovare immediatamente. Cinque giorni dopo, il 18 settembre, un aereo tedesco va a prendere a Budapest l'unico alto diplomatico di professione che all'estero si è rimasto fedele a Mussolini e lo conduce in Baviera al castello di Hichberg. Qui, nei botchi di Faffen Weekend, nell'alta Baviera, Hitler ha creato una nuova corte provvisoria per il capo del fascismo italiano, spodestato sotto la sorveglianza delle SS. C'è un picchetto d'onore che in qualche modo li controlla. Nel piccolo palazzo Venezia tra gli abedi di Baviera, Anfuso deve assistere Mussolini nella formazione di un nuovo governo fascista, un governo del quale ancora nessuno sa con precisione dove avrà sede, né tantomeno su quale territorio governerà. Ammesso e non concesso che il Fiore abbia intenzione di farlo governare davvero. E questa è un'altra ipotesi su cui bisogna riflettere. Nonostante il futuro incerto che gli si prospetta, Filippo Anfuso è pronto a gettarsi senza riserve nell'ultima avventura del fascismo mussoliniano e a servirlo proprio nel luogo in cui sarà più difficile, a Berlino. Qui, nelle veste di ambasciatori di uno Stato formato da una parte dell'Italia, dovrà trattare direttamente con i vertici della potenza protettrice nazionalsocialista, nello stesso tempo alleata e occupante. E qui già iniziano i problemi. E inizia il paragrafo, l'ultimo ambasciato di Mussolini. Una fama contraddittoria accompagna nella capilla del Reich il diplomatico originario di Catania, fine letterato, diplomatico, abile ed esperto, Don Giovanni di successo, uomo di potere cinico e intrigante, fascista convinto, anche se fornito di un non trascurabile senso critico. Filippo Anfuso è rappresentante di quella categoria di diplomatici che, a differenza dei suoi predecessori nell'ambasciata di Berlino, Vittorio Cerruti e Bernardo Attolico, provengono direttamente dai quadri del partito fascista e sono stati assunti nel servizio diplomatico dal regime alla fine degli anni 20 per rompere il predominio della vecchia scuola diplomatica di Palazzo Ghigi. E quindi sappiamone un po'. Di questa scuola fascista sono anche i grandi, i ciano, lo stesso Alfieri, quindi sono quella bastianini, quella generazione un po' borderline che sa vestire l'abito diplomatico ma sottoporta la camicianina. Pur non essendo un grande ammiratore della Germania nazionalsocialista, Anfuso è senz'altro uno di coloro che in Italia conosce meglio, soprattutto sul terreno psicologico, i problemi che negli ultimi dieci anni hanno dominato le relazioni italo-tedesche. Dopo la sua esperienza come vice consola a Monaco nell'anno 1927, il suo primo incarico dopo l'ingresso del servizio diplomatico nel 1925 non ha praticamente lasciato più la Germania. Nelle veste di consigliere di legazione nell'ambasciata di Berlino diretta da Vittorio Cerruti nel 1932-33 assiste agli avvenimenti più importanti della storia tedesca più recente, l'agonia della Repubblica di Weimar e la presa del potere da parte dei nazionalsocialisti. Dopo aver fatto tappa a Nanchino in Cina e ad Atene nel 1935, viene richiamato a Roma da Mussolini proprio nel momento in cui l'Italia ricomincia a mettersi nella scia della Germania. Viene assegnata all'ufficio del Ministero degli Esteri dove si mette rapidamente in luce come uno dei membri più attivi della fronda che si raccoglie intorno a Ciano, al Genero del Duce lo unisce un rapporto di amicizia e di stretta collaborazione politica, all'inizio come responsabile della politica spagnola dell'Italia, nella guerra civile ottiene anche il grado di sottotenente di artiglieria, poi come capo di gabinetto di caleazzociano. Nelle veste di rappresentante il Ministro degli Esteri partecipa attivamente a tutti i passi decisivi per la nascita dell'asse Roma-Berlino. All'impegno comune nella guerra civile spagnola, al primo accordo formale di cooperazione politica nell'autunno del 1936, alla visita di Stato di Mussolini nel 1937 e infine ai vertici italo-tedeschi dei primi anni di guerra. Quindi diciamo che è un tecnico, un convinto assertore dell'alleanza con la Germania. Nonostante questo ruolo attivo conosce i pericoli e i problemi che sono insi nell'alleanza con il Reich, ma anziché tentare di agire direttamente su Mussolini ne attribuisce la colpa al silenzio vile dei vertici militari e del partito che per paura di perdere il proprio favore presso il Duce e di compromettere la carriera non esprimono i loro dubbi con la necessaria chiarezza e preferiscono tramare dietro alle sue spalle. Quindi qui abbiamo un altro elemento molto interessante per capire un po' cosa gira intorno a Mussolini. Per sottrarsi all'atmosfera deprimente di un paese in cui la maggior parte delle personalità di governo conducono la guerra nella speranza di perderla, mentre le masse non sapevano se preferire la vittoria oppure la sconfitta, come scrive nei suoi ricordi del dopoguerra, nell'autunno del 41 chiede di essere trasferito all'estero. Viene inviato a Budapest dove scopre, dopo breve tempo, che gli ungheresi si trovano in una situazione molto simile agli italiani. Quando alla fine del 42 apprende che il governo di Miklos Kallai ha preso segretamente contatto con gli alleati, lo comunica subito a Ciano domandandogli anche per quale motivo l'Italia non faccia altrettanto. Ma quando nella prima idea del 43 scopre che il suo amico è coinvolto nella preparazione di una congiura contro Mussolini, ha infuso prendere le distanze da Ciano. Si rende conto perfettamente degli errori del Duce, ma è anche fra i pochi fascisti di spicco a capire subito che la deposizione di Mussolini avrebbe significato la fine del fascismo in Italia. Nauseato dagli intrighi e dalle cospirazioni dei palazzi romani, il siciliano ritorna a Budapest. La svolta del 25 luglio e l'armistizio dell'8 settembre non lo sorprendono, ma li vive come un tradimento nei confronti della persona del Duce, per il quale nutre una profonda ammirazione. Prova inoltre vergogna per l'uscita dell'Italia dalla guerra e a suo avviso estremamente disonorevole e avverte una grande rabbia per la fuga del governo che ha consegnato il Paese agli occupanti. Ed è un po' l'opinione che abbiamo trovato in Mazzolini, quindi in qualche modo vediamo come la realtà si contrappone alle varie dinamiche. La notizia della liberazione del Duce rappresenta perciò un forte richiamo emotivo per il diplomatico. Il suo collaboratore di vecchia data Carlo De Ferrari Salsano, che si rifiuta di seguirlo nella decisione di unirsi a Mazzolini, lo critica aspramente per questo del suo diario. La sua mancanza di moralità lo rendeva incapace di concepire un'Italia che sopravvissa agli errori e alla rovina del regime. Come altri fascisti convinti e nemici di Badoglio, Anfuso ritiene che l'imperativo del momento sia quello di cancellare lo smacco e di ristabilire l'onore dell'Italia. E questo potrà accadere soltanto se gli italiani si metteranno di nuovo dalla parte della Germania. Vediamo come sono delle opinioni che comunque sono costanti in un certo ambiente, che non pregiudica soltanto i più facinorosi, i più sfregatati, i più fanatici, ma anche un gruppo di diplomatici che dovrebbe essere un po' più accorto nelle decisioni. Invece loro sono su di questa opinione e continuano, perseverano pure loro. Tuttavia, non appena giunto a Ischberg, Anfuso comprende subito che adesso Mussolini è tutt'altro che libero, è prigioniero del suo liberatore, del suo ammiratore di un tempo. Ecco, questa è una cosa importante che in qualche modo abbiamo già visto, tra altri sostenitori della Repubblica Sociale Italiana. Quindi, coloro che appoggiano una rinnovata alleanza tra l'Italia e la Germania sono pienamente consapevoli che la Repubblica Sociale Italiana è a tutela, è messa a valia. I liberatori sono anche occupanti e quindi c'è un problema, un problema che non è solo pratico, ma è anche morale. E questo però ci mette il tarro di capire, ma nonostante questo, continuate? Probabilmente la risposta è, preferiamo stare con i tedeschi nonostante tutto, perché l'alternativa è stare con Badoglio. Questo secondo me è la chiave di volta per capire questi personaggi, come del resto Graziani, no? Cioè, la mia scelta di campo non parte da chi mi è più simpatico, ma da stare con chi non mi è più antipatico. Quindi mi è più antipatico e Badoglio, quindi sto dall'altra parte per partito preso. L'amico, il nemico del mio nemico è mio amico. Questa è la considerazione. Il distacco dell'Italia dalla Germania ha conosciuto un lungo periodo di incubazione. Per questo lo stato maggiore del governo tedesco a Rastenburg, quando aveva saputo da Radio Londra dell'armistizio di Cassibile la sera dell'8 settembre, era rimasto colpito, ma per nulla sorpreso. Nel quartier generale del Führer si era diffuso addirittura il sollievo. La notizia dell'uscita dall'Italia dalla guerra per mano di Pietro Badoglio metteva ufficialmente fine non solo all'alleanza dell'asse, già da tempo incrinata, ma anche al doppio gioco che Berlino e Roma avevano condotto fra loro per settimane dal momento dell'arresto di Mussolini. Quindi vedete che è quasi una liberazione. Adesso la Wehrmacht può agire finalmente in modo del tutto aperto ed eseguire i piani operativi preparati per il caso asse, con ben 17 divisioni, un esercito di 300.000 uomini in tutto. Nel giro di poche ore tutti i punti di riferimento strategici e le vie di comunicazione di importanza vitale della penisola italiana sono in mano tedesca. Nei territori occupati come la Francia milionale, i Balcani e la Grecia, centinaia di migliaia di soldati italiani sono costretti a depore le armi. Le forze militari regge forniscono nel complesso una resistenza alquanto modesta. Nell'isola greca di Cefalonia invece la divisione Aqui, che vi è a distanza, si rifiuta di cedere le armi. L'abbiamo visto. La guarnigione italiana si arrende ai tedeschi solo dopo giorni e giorni di combattimento, ma non viene risparmiata dalla vendetta degli ex alleati. Purtroppo questo l'abbiamo già letto. Per ordine di Berlino circa 2.500 soldati e quasi 500 ufficiali vengono fucilati contro tutte le convenzioni del diritto internazionale e molti dei loro cadaveri sono gettati in mare. Nel frattempo Hitler e i suoi collaboratori più stretti discutono su come affrontare politicamente il problema dell'Italia. La questione centrale è come adesso la penisola debba essere governata. Le molteplici esperienze concrete, accumulate nel corso degli ultimi anni nel campo dell'amministrazione dei territori occupati, in effetti a partire dal 1939 il Reich non ha fatto altro se non sottomettere in azione intere e governare su di loro, offrono un ampio spetto di modelli. Istituzioni o sostegno ai governi collaborazionisti come in Norvegia, in Croazio, nella Francia, di Vichy, un sistema di amministrazione civile coloniale come ad esempio in Bohemia, in Moravia, nel governatorato generale polacco, il pure semplice controllo militare come nei territori occupati nel fronte orientale. I vertici della Wehrmacht procedono decisamente per quest'ultima operazione. La Wehrmacht domina l'Italia, ma non l'intero paese. In seguito al sbarco degli alleati a Salerno e a Brindisi, il fronte bellico divide il territorio in due metà. Ogni decisione politica deve garantire assolutamente la sicurezza del fronte medionale e delle truppe tedesche che vi combattono per tenere la guerra lontana dai confini del Reich. L'opinione dei vertici militari, che in pratica vedono nell'Italia poco più delle retrovie del fronte, non incontra tuttavia il favore dei vertici politici del Reich. Il crollo sorprendentemente rapido del più importante regime fratello e il conseguente voltafaccia del membro più antico dell'alleanza creano al governo nazista un non trascurabile problema di immagini che non può essere risolto con una semplice amministrazione militare dell'Italia. Bisogna punire l'Italia. L'ascesa al governo di Badoglio equivale alla fine storica di un movimento e di un governo che un tempo sono serviti da modello per il nazionalsocialismo. E questo molti nazionalsocialisti non l'hanno dimenticato, anche se dal punto di vista tedesco gli italiani si sono rivelati cattivi alleati e non hanno fatto altro che lamentarsi e creare problemi. Uno dei più sensibili nei confronti di questa problematica è senz'altro Hitler. Dalla deposizione di Mussolini il Führer vive un contrasto interiore. Da una parte si vuole vendicare e punire in modo esemplare il popolo italiano per via del suo tradimento nei confronti della Germania, come a Cefalonia. Dall'altra prova un certo debito di riconoscenza storica nei confronti del fascismo italiano e si sente legato personalmente a Mussolini. Per questo ha deciso immediatamente di insediare un governo fascista come a voler cancellare la svolta politica avvenuta in Italia e dimostrare al mondo che la Germania nazista non era stata lasciata sola con la sua ideologia. E tuttavia è escluso che venga concessa di nuovo fiducia agli italiani. Nei tedeschi si è troppo radicata l'immagine dell'italiano vigliacco e infedele, che molti in Germania vedono confermata per la seconda volta dopo il 1914. Inoltre l'Italia, almeno agli occhi del mondo, è considerata il membro più importante dell'asse. Non solo perciò la caduta dell'Italia potrebbe essere interpretata come segno di debolezza e di isolamento della Germania, ma esiste anche il pericolo che altri paesi come Romania e Ungheria, la cui fedeltà nei confronti dell'asse è in discussione già da alcuni mesi, seguono l'esempio dell'Italia e possano così provocare la dissoluzione dell'intera alleanza bellica. Io direi pure la Finlandia, direi così. Perciò agli occhi del Führer sono necessarie durezza e decisione, ma anche grande sensibilità politica e una soluzione convincente e soddisfacente. La posizione di Hitler viene appoggiata vigorosamente da altri capi del Partito Nazionalsocialista come Eric Himmler e Martin Bormann. Anche il ministro degli affari esteri di Ribbentrop condivide il progetto di Hitler di ricostituire il fascismo in Italia, sa pure per ragioni egoistiche. La burocrazia diplomatica della Wilhelm Strasse teme di perdere i propri posti in Italia nel caso in cui non vi venga mantenuta almeno la parvenza di un regime autonomo e indipendente. Le sedie premono anche diplomatiche. Se l'Italia diventa una terra occupazione pure semplice, si perdono quei ruoli all'estero che invece sono appetibili per una certa burocrazia di boiardi di Stato. Perfino Joseph Goebbels si mostra favorevole. Il suo odio per gli italiani che sfoca in numerose annotazioni nel diario non gli impedisce di riconoscere i pericoli nascosti negli sviluppi politici. Pur non nutriendo particolare entusiasmo per la ricostruzione del fascismo in Italia e mostrandosi come uno dei fautori più decisi di una soluzione radicale, spinge Hitler a spiegare in un discorso pubblico al popolo tedesco che gli avvenimenti italiani e ad assicurargli che l'esempio italiano non potrà mai poi mai ripetersi né si ripeterà in Germania. Il discorso viene diffuso dall'area tedesca il 10 settembre. Il crollo dell'Italia era da prevedersi da lungo tempo, dice Hitler, non per la mancanza di adeguate possibilità italiane per una resistenza efficace o per la mancanza del necessario aiuto tedesco, ma piuttosto per difetto o meglio per la mancanza di volontà di quegli elementi che ora, a conclusione del loro metodico sabotaggio, hanno provocato la capitolazione. È sempre colpa dei militari, della corona, eccetera. Si è compiuto ciò verso cui da anni molti uomini tendevano. Il passaggio del comando di Stato Maggiore italiano dal Reich alleato all'Italia ai comuni nemici. La Germania aveva aiutato il suo alleato fino al limite del possibile. Questo solo perché alla testa del popolo italiano c'era stato il più grande figlio della terra italiana, grande figlio, dalla caduta del mondo antico. In ogni caso Mussolini non aveva alcuna colpa. L'ultimo atto che determinò il colpo di Stato deciso a lungo tempo è stata la richiesta da parte del Duce di più ampi poteri per una più efficace condotta della guerra. Sono stato e sono felice di poter considerare mio amico questo uomo grande e leale, dice sempre Hitler. Hitler conclude il discorso con espressioni minacciose. Le misure emanate a protezione degli interessi tedeschi di fronte al passo dell'Italia sono molto dure. L'esempio del tradimento della Jugoslavia ci ha dato in precedenza una salutare lezione. E qui è una minaccia bella e bruma. La soluzione confezionata su misura per il caso italiano prevede quindi l'instaurazione di un governo nazionale fascista che si dovrà occupare soprattutto dell'ordine e della tranquillità alle spalle delle truppe tedesche che combattono al sud. Questo governo si deve sforzare di ottenere il consenso sul proprio territorio ma sotto il più severo scontrollo politico e militare tedesco. Quindi diciamo dovete gestire l'ordine pubblico però vi aiutiamo noi. Nello stesso tempo la Germania intende sfruttare in modo sistematico le risorse materiali e umane dell'Italia occupata. Il fatto che questo intento comprometta gravemente all'origine il progetto di ridare vita al fascismo in Italia rappresenta una contraddizione che si manifesta subito ma viene mascherata e si inserisce nel rapporto ormai da molti anni difficile fra fascisti e nazionalsocialisti. Anche se i primi provvedimenti del Führer riguardano l'amministrazione del territorio italiano occupato danno al ministro della propaganda l'illusione che Hitler sia fermamente deciso a fare tabula rasa in Italia. Quest'ultimo si mantiene fermo nel proprio intento di arrestare il crollo del fascismo nella penisola. Il progetto di formare un governo ombra neofascista con il pugno di uomini del regime che sono fuggiti nel Reich dopo gli avvenimenti del 26 luglio per accogliere quello che resta del fascismo in Italia fino ad allora non aveva potuto ancora prendere realmente slancio. All'inizio gli esuli sono troppo pochi, poco influenti e troppo divisi. In Italia regna una confusione troppo grande, come confermano ogni giorno le notizie che giungono a Natale e Lupo da Roma. Ma sappiamo che non cambierà molto nei mesi successivi. Il regime, il partito fascista e le sue strutture tutto sembra essersi risciolto come neve al sole. Il gruppo tra cui Roberto Farinacci e il figlio maggiore del duce Vittorio Mussolini viene trasferito da Monaco a Rastenburg. Nella notte del 9 settembre nel treno speciale di Hitler viene improvvisata una stazione radio che invita un appello al popolo italiano. In nome del duce si è formato un governo provvisorio neofascista in esilio che al più presto possibile si insiederà in Italia per ricostruirvi la milizia fascista. Ci si augura proprio, commenta sarcastico Goebbels, che il governo fascista ricostituito che provvisoriamente dorme per terra nella stanza dell'ambasciatore Hevel nel quartier generale Führer finalmente venga chiamato per nome. Tuttavia non possiamo dire questi nomi perché sono troppo insignificanti. Una cosa però è certa, senza il duce nessun tentativo di ridare vita al fascismo in Italia potrà mai riuscire. Questa condizione fondamentale viene soddisfatta dopo che il 12 settembre un commando di paracautisti da SS condotto dal maggiore Aral Morts è riuscito a liberare il dittatore italiano De Posto. Dopo aver fatto tappa viene a Monaco dove ritrova la sua famiglia, anch'essa portata via dall'Italia dalle SS. La mattina del 14 settembre 1943 Mussolini viene condotto in aereo da Hitler a Rastenburg. In due colloqui nel quartier generale del Führer Hitler spiega al suo ex maestro di politica quello che si attende da lui. L'Italia, secondo Hitler, è stata l'alleanza più sicura per il popolo tedesco. Il crollo del fascismo, le cui dimensioni continuano tuttora a faticare e a spiegarsi, ha causato gravi danni al Reich. Adesso si tratta di ricostituire le future relazioni italo-tedesche su un terreno completamente nuovo. Un Mussolini ancora confuso è stato tagliato completamente fuori dagli avvenimenti del mondo per poi più di un mese. Hitler appare aperto e disponibile. Dobbiamo vincere la guerra, gli chiarisce il Führer. Così l'Italia sarà ristabilita nei suoi diritti. La condizione fondamentale è che il fascismo rinasca e si vendichi. In queste parole di Hitler sono già contenute tutte le coordinate entro le quali si svolgerà la rinascita politica di Mussolini. Vendetta, vendetta e vendetta. Dopo i colloqui di Rastenburg del 14 e 15 settembre, l'instaurazione di un governo fascista nella parte dell'Italia occupata dalla Wehrmacht è divinamente decisa. La sera del 15 settembre, l'agenzia di stampa italiana Stefani annuncia a Roma la notizia che Benito Mussolini ha ripreso oggi la suprema direzione del fascismo in Italia. Segue una serie di ordini del giorno del Duce volte a ritare vigore al lavoro del partito fascista, a ricostituire l'apparato amministrativo e permettere la normalizzazione della vita sociale in Italia. Joseph Goebbels, che si era preoccupato che Hitler si lasciasse indurre a decisioni troppo miti nei confronti degli italiani a causa dei sentimenti d'amicizia per Mussolini, la sera stessa annota nel suo diario quello che Hitler gli ha riferito sui colloqui con il dittatore italiano abbattuto. Il Duce ha intenzione di ricostituire per prima cosa il partito fascista. Poi col suo aiuto vuole iniziare la ricostruzione dello Stato a partire dagli organi amministrativi inferiori. Infine, a coronamento di questo lavoro, ha intenzione di convocare un'assemblea costituente che dovrebbe avere il compito di esaurare Casa Savoglia. I nazionalsocialisti assegnano particolare importanza alla rottura con la monarchia, ai loro occhi colpevole della caduta del fascismo per la rinascita di un regime mussoliniano. Alla fine dell'incontro Mussolini ha dichiarato di non volersi legare immediatamente in Italia, ma di voler rimanere nella Germania meridionale fino a che non saranno gettate le fondamente dell'apparato del suo nuovo governo. Come già capito altre volte, Hitler è poco leale con il suo alleato, al quale ha nascosto le misure severe che ha emanato appena cinque giorni prima. Il territorio italiano, sul quale dovrà governare il futuro gabinetto Mussolini, è diviso in un terreno di operazioni sotto il comando del generale di corpo d'armata Erwin Rimmel. Erwin Rimmel, in realtà è un Feldmaresciallo, c'è un errore di traduzione. Intanto è un Feldmaresciallo, poi è Erwin Rommel, no Rimmel, vabbè, mascara, non so. È un territorio occupato in pratica alle retrovie del fronte meridionale. Sotto il comando del plenipotenziario per il sud del generale di corpo d'armata, pure qui Albert Kessering, pure il maresciallo, vabbè, qui sui grati è un po'. Il traduttore ha un po' libertà di azione. Le province nord-orientali della Venezia Giulia e dell'Alto Adige, insieme alla costa d'Alma, sono state trasformate in due zone di operazioni. Quella delle Prealpi e quella del litorale Adriatico. Sottoposta al comando rispettivamente del Galauder, Franz Offer e Friedrich Reiner. Sebbene Hitler, secondo Mussolini e il suo quartier generale, non abbia mai parlato di riparazioni o di pretese nei confronti dell'Italia, anzi gli avrebbe addirittura assicurato espressamente che la nazione italiana sarebbe stata reintegrata nei suoi diritti, il Rai ha di fatto annesso le due province di confine. E questo non è tutto. Nell'Italia settentrionale è stato istituito un secondo comando delle SS, accanto a quello già esistente a Roma. Lo dirige l'ex capo del Stato Maggiore di Himmler, Karl Wolf. L'ambascio tedesco a Roma, Rudolf Rahn, è stato nominato da Hitler pre-nipotenziato del Reich. Rahn e Wolf sorveglieranno per ordine del Führer la creazione del governo fascista in Italia e ogni passo di Mussolini. Quindi diciamo, è proprio a valia in tutti i sensi. Il 13 settembre, appena 24 ore dopo l'arrivo di Mussolini a Tana del Lupo, Hitler ha dato inoltre carta bianca ad Albert Speer, dal 1942 ministro del Reich per gli armamenti e la porzione bellica, per salvaguardare l'industria di guerra nell'Italia settentrionale. Il fantoccio di un nuovo Stato fascista non deve nascere soltanto sotto severo controllo militare e poliziesco da parte dei tedeschi. Ma anche la sua economia, già compromessa da numerosi anni di guerra, deve essere messa fin dall'inizio al servizio delle esigenze della macchina bellica nazionalsocialista. Queste disposizioni e decisioni di Hitler, che sono senza dubbio il risultato di un compromesso fra le diverse opinioni e istanze dei vertici politici e militari del Reich, costituiscono i pilastri fondamentali di quello che Filippo Anfuso definirà come il sistema al quale ogni politica di Mussolini si dovrà adeguare. Questo è il nuovo terreno su cui sotto lo sguardo severo e sempre diffidente dei nazionalsocialisti potrà risorgere il fascismo italiano. E con questi presupposti non ci può essere nulla di buono, aggiungo io. Bene, abbiamo fatto questa lettura che secondo me è veramente, veramente pregnante, veramente efficace. Io ringrazio Gianluca Falanga per averla così magistralmente sintetizzata in questo volume che se vi capita compratelo perché è veramente uno spaccato di grande prospettiva. Tra l'altro appunto affronta il periodo 33-45 con tutti i vari ambasciatori italiani a Berlino nel 12 anni di regime nazista, quindi in qualche modo è veramente una finestra italiana su Berlino e viceversa una finestra tedesca sull'Italia e in qualche modo ci permette veramente di andare a capire ancora meglio le relazioni che esistono tra Italia fascista, Italia post 8 settembre, Repubblica Sociale Italiana, chiamiamola come vogliamo, e Germania con una situazione di sudditanza ancora più opprimente, più invasiva, più schiacciante nelle pieghe appunto di una burocrazia farraginosa, cruenta, vendicativa che ovviamente non potrà che portare lutti, disastri, crimini a tutto spiano. Tra l'altro come si è detto ci sia un'assemblea costituente che non costituirà mai niente, non ci sarà mai un ordine precostituito, un ordinamento pubblico tutto legato alla vendetta, al rancore, alle invidie, alle contrapposizioni tra pezzi di stato, pezzi di filiere, di fiancheggiatori, di prezzolati, del Reich, di raffazzoni e chi più è criminale, chi più ne ha più ne mette, è una realtà veramente composita e ahimè sempre più nefasta per il territorio occupato dell'Italia. Detto questo, come al solito, io vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!